che abbiamo fatto, questo vi fa capire lo spirito del Rossellini, che anche quando piove, anche quando il meglio lo permette, noi abbiamo sempre voglia di fare, anche senza il microfono. E adesso vi lasciamo signorato. Grazie a voi. Un attimo, ci vedo gli accogli. Vai, vai. Aspetta, prima di intro. Sì. Noi scoppiamo talenti, lo sbagliamo, noi dobbiamo sfruttare le tue quali. Tanti sono quattro monete e trinti diamo il tuo corso per la cenevità. Non vedi te almeno a fare, non perdere l'occasione, se no poi te lo effettirai. Un cammino, un'unità, due, 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 due. Un cammino, un'unità, due, 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 due. Non vedi te almeno a fare, non perdere l'occasione, se no poi te lo effettirai. Non capita tutti i giorni, per me e me sono scolastici in due, tre, tre e di fare un quadro per te. Ok, grazie, infinatevi. Grazie.